macchine ibride lucca triplica i costi dell'abbonamento per il parcheggio che passa dai 50 ai 150 euro per i veicoli elettrici invece gli stagli blu rimarranno gratuiti un pessimo inizio dell'anno per tutti i possessori delle autovetture ibride ovvero quei modelli di macchine che sfruttano la combinazione di due sistemi di alimentazione quello termico e quello elettrico la questione ha suscitato la reazione del consigliere di sinistra con daniele bianucci che ha stigmatizzato la scelta della maggioranza di cancellare il prezzo calmerato per il parcheggio di veicoli ibridi sottolineando quanto tutto ciò sia un tornare indietro nella lotta alle emissioni di anidride carbonica lucca 2032 ha definito gli aumenti dei costi insignificanti poiché 150 euro per parcheggiare tutto l'anno negli stessi stalli equivale ad un incremento di spesa giornaliero di appena 0,42 centesimi